Tagli alla sanità, tutela la tua salute con Diabetes Center, avrai visite mediche specialistiche per tutto l'anno e vicino casa tua, a prezzi assolutamente straordinari, anche con comodissime Vieni a scoprire le nostre promozioni, fino al 31 dicembre potrai avere in omaggio un glucometro di ultima generazione con fornitura annuale delle strisce reattive per determinare il valore della glicemia Biotest, vi aspetta a Trinità di Sala Consilina, telefono 0975 45487 www.biotest.mobi